Miranda Kerr svela i suoi trucchi di bellezza in volo Non è semplice, prendersi cura sempre della propria bellezza. Soprattutto quando condizioni di stress contribuiscono a danneggiare la pelle, e quando il rischio disidratazione e segni di stanchezza è dietro langolo. . Ma chi spesso viaggia in aero può trovare nelle top mode l'un'ispirazione, a cominciare da Miranda Kerr. L'importanza degli oli essenziali. Australiana classe 1983, Miranda Kerr tra tutte le modelle è una di quelle dalla bellezza più semplice. . Ha tratti perfetti, una pelle splendida e anche quando si mostra senza trucco mostra un viso dai tratti semplice l'assenza di imperfezioni. . Tuttavia, anche lei, deve fare i conti con lo stress a cui la sua epidermide è sottoposta. Soprattutto nei periodi in cui trascorre moltissimo tempo in volo, saltando da una passerella a un servizio fotografico. . . Ecco quindi che, Miranda, ha messo a punto una beauty routine super efficace. E l'ha fatto con coscienza, padroneggiando un argomento quello della bellezza che l'ha portata a fondare anche un brand di cosmetici bio. . . Credo sia molto importante struccarsi prima di salire a bordo di un aereo, ha dichiarato la modella di Victoria's Secret. . Ecco perché viaggia sempre con delle salviette struccanti in borsa, prima del decollo, inoltre, vaporizza sul suo volto dell'acqua di rose o lavanda per rilassarsi. . In volo, Miranda Kerr si prende sempre un po' di tempo per la meditazione, che come più volte ha dichiarato nella sua vita è molto importante. . . Quando sei sempre di fretta e impegnata, trovare qualche istante per te stessa, e per respirare profondamente, è un grande aiuto. Ti prepara a vivere al meglio tutto quello che ti succede, ha dichiarato. . . Molto importanti, per la top model, sono poi gli oli essenziali e gli unguenti, il suo preferito è il Cora Organics Noniglove Face Balm, realizzato con estratti di nonni, olio di cinorrodo e olio di cocco, perfetto per nutrire la pelle soprattutto nei voli a lungo raggio, in cui il rischio disidratazione è alto. . . Con gli oli essenziali, la splendida modella non ama prendersi cura solo della sua pelle. Ma anche dei suoi capelli. . Amo lasciare che i miei capelli asciughino al vento. E amo anche i massaggi al cuoio capelluto, che sono così rigeneranti. Ha dichiarato nel corso di un'intervista a Vogue. . 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